Stiamo parlando di SLA, quindi parliamo di una paziente che ha bisogno di una particolare assistenza. L'ADI fino a questo momento ha collaborato in maniera molto professionale, fino a poco tempo fa, perché che cosa sta succedendo? In pratica da ieri ai vecchi pazienti, ai vecchi infermieri, sono stati affiancati dei nuovi ragazzi. Per sentito dire dovrebbero andare a sostituire nel giro di un mese, 15 giorni, i vecchi infermieri e cominciare loro a mandare avanti questo servizio. Che poi tra l'altro, questo servizio fino adesso era scorporato dall'ADI. Veniva chiamato progetto ritorno a casa, dove venivano mandati esclusivamente degli infermieri da reparti importantissimi, di quali la rianimazione, rianimazione cardiochirurgica, pneumologia, cioè tutti infermieri altamente professionali. Stiamo parlando di eccellenze. Esattamente, reparti proprio abituati quotidianamente a vivere questo tipo di pazienti, questi tipi di macchine. Loro sono pazienti attaccati a delle macchine. Che cosa può succedere per esempio a tua madre, improvvisamente? Per cominciare le medicazioni. Le medicazioni sono fondamentali, devono essere fatti bene e soprattutto da gente che li fa quotidianamente, tutti i giorni, con un determinato tipo di pulizia. Certo, non si può creare un ambiente sterile tipo come un ospedale, però appunto deve venire gente qualificata che riesce a farle in un certo modo. Si è preoccupato per... Io sono veramente terrorizzato. Ovviamente noi siamo sicuri che i nuovi infermieri hanno fatto corsi particolari per assistere a questa tipologia di pazienti. Corsi in pneumologia, in rianimazione. Che cosa vogliamo chiedere alla direzione sanitaria della ASLE? Chiediamo almeno di far mantenere uno degli infermieri? Esatto, almeno chiediamo, non io perché anche gli altri, noi ci sentiamo telefonicamente con gli altri. Chiediamo almeno di lasciarne due, uno o due di questi infermieri che venivano prima, inseriti in mezzo a loro, che se si presenta un problema grave, almeno uno interviene bene. Poi un'altra cosa, io non credo che lo abbiano fatto, perché se lo hanno fatto, allora hanno fatto una cosa benissima. Io non credo, non lo so, perché noi non ci hanno informato. Prima di mandare questi infermieri nuovi qua, andavano pure bene al limite, però gli vuole fare fare un corso in pneumologia per i macchinari o in rianimazione, almeno per dargli una infarinata, per vedere, perché se li mandano così, senza conoscere le macchine, senza conoscere altre cose, allora la faccenda comincia a diventare un po' grave.